C'è un margine di speranza per la ripresa di Toto Schillaci. Nel bollettino della direzione sanitaria dell'ospedale civico, dove l'ex attaccante della Nazionale è ricoverato da qualche giorno, si legge le condizioni sono in miglioramento, si è registrata una aritmia atriale ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca. I medici del reparto di pneumologia aggiungono Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. Al momento il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo.